Grazie, come ha accennato il Ministro Padoan, abbiamo anche concordato l'iter definitivo del DPCM di applicazione della norma che sapete era contenuta nel comma 140 da legge di bilancio del 2017, cioè del Fondo Infrastrutture per lo Sviluppo Infrastrutturale del Paese. Il lavoro di queste settimane ha consentito da un lato di allegare al DEF per la prima volta un programma di investimenti strategici, quindi il Piano Nazionale Generale dei Trasporti, con le principali direttrici, con i principali obiettivi per rendere maggiore accessibilità del territorio italiano all'Europa e al Mediterraneo, una mobilità sostenibile e sicura, un miglioramento della qualità di vita e della connettività delle aree urbane come temi principali. Il DPCM distribuirà, come ha detto il Presidente del Consiglio, circa 47 miliardi, una prima tranche che supera i 25 miliardi è già pronta per essere allocata e quindi avrà la caratteristica di mettere risorse importanti appunto sulla programmazione infrastrutturale già stabilita, sui principali capitoli sono quelli dei contratti di programma di rete ferroviaria italiana, quindi vi sarà un investimento per completare i grandi valichi, quindi dal Brennero al terzo valico, quindi si dà finanziamento e certezza di finanziamento ai corridoi mediterranei e quello trasversale diciamo Torino-Lione eccetera, vi sarà un investimento importante quindi complessivamente di circa 9 miliardi per rete ferroviaria italiana, di cui una parte sono per il completamento corridoi, ripeto i corridoi delle reti TNT, un'altra parte invece molto importante per il potenziamento delle reti ferroviarie regionali e delle reti ferroviarie che vanno a servire con linee suburbane l'accessibilità delle grandi aree metropolitane italiane. Poi vi è una quota rilevante di queste risorse già concordata che va ulteriormente a implementare il contratto di servizio, il contratto di programma ANAS, anche qui parliamo di oltre 5 miliardi appunto spalmati in questo arco temporale. Dentro a questo contratto di programma ovviamente c'è il completamento delle direttrici ma soprattutto ancora una volta un grande investimento nel completamento di itinerari, nella manutenzione e nella messa in sicurezza del Paese, sapete queste erano le motivazioni che stavano alla base del provvedimento che avevamo licenziato con la scorsa legge di stabilità. Poi vi sono alcuni elementi più specifici anche nel piano investimenti che riguardano investimenti per la riqualificazione come ha già accennato il segretario Boschi delle aree metropolitane, la riqualificazione, la prevenzione del rischio sismico, alcune altre cose importanti come l'eliminazione delle barriere architettoniche e il grande investimento sulla mobilità col trasporto rapido di massa nelle aree urbane e quindi di nuovo finalmente anche in Italia un rifinanziamento delle tramvie e dei sistemi da trasporto pubblico di massa dentro alle aree metropolitane. Quindi complessivamente una programmazione di medio e lungo periodo che dovrebbe dare un grosso stimolo alla progettazione immediata perché anche in questo fondo vi sarà una quota destinata alla progettazione, vi sarà una quota importante di diverse centinaia di milioni destinata alla progettazione di tutti questi interventi quindi ad assistere anche gli enti locali nell'implementare con più decisione la parte di investimenti pubblici.